Sono l'architetto Paolo Pierinerli, sono un conservatore, mi occupo quindi di materie relative al campo della conservazione e con questo ruolo, con questa expertise, mi occupo di un modulo di tecniche artistiche storiche all'interno del Master in Conservazione e Restauro di Palazzo Spinelli. Questo modulo si occupa in particolare delle tecniche, delle pratiche, delle analisi e della conservazione dei materiali lapidei e dei composti carbonatici, intendendo per questi ultimi gli intonaci e le malte, prevalentemente storiche ovviamente, ma anche più recenti. Per quanto riguarda invece il settore del management dei beni culturali, per cui come sapete Palazzo Spinelli è particolarmente riconosciuto, mi occupo di territorio, quindi mi occupo dell'attività di docenza relativamente al settore dei distretti culturali, quindi della nascita della costituzione dei distretti culturali, di come funzionano, di come si costituiscono anche, ovvero sia di quali sono le regole sulla base delle quali si pensano e si realizzano i distretti culturali. E questi evidentemente fanno capo in particolare alle città d'arte, siamo in una città d'arte, Firenze stessa ha costituito un polo museale negli anni passati e di conseguenza tutta una serie di attività di cui gli studenti sono in grado di apprezzare alcuni degli esiti dell'attività di concertazione e di coordinamento che è stata realizzata grazie al distretto culturale fiorentino e di conseguenza ad apprendere anche alcune delle pratiche e delle tecniche nel settore.